Le case passive Ciao, oggi ti voglio parlare delle cosiddette case passive le case che consumano quasi zero inizio col dirti che questo è uno standard internazionale mica micio micio una casa Passivi House è il top dell'edilizia sostenibile il massimo livello raggiungibile per comfort e rispetto dell'ambiente con prestazioni energetiche a cui non siamo certo abituati a noi spreconi seriali di energia teoricamente una casa del genere potrebbe essere scollegata da qualsiasi fonte esterna di energia ovvero luce, gas o altro in realtà con le attuali tecnologie questo non accade sia per bisogno che per sicurezza anche se in effetti il consumo è quasi zero in effetti esistono già anche in Italia degli edifici progettati specificatamente per produrre internamente la poca energia necessaria ma solo cambiando il proprio stile di vita adeguandosi a consumare consapevolmente una Passivi House può disconnettersi definitivamente dalle reti in queste case infatti si usano pannelli fotovoltaici per produrre il fabbisogno di energia necessario ma l'efficienza di questi pannelli e lo stoccaggio dell'energia non è ancora sufficiente per assicurare un uso normale della casa voglio dire che non puoi aspettare una bella giornata di sole per asciugarti i capelli col phon a meno che tu non viva su un altro pianeta ovviamente uno dei parametri fondamentali è la protezione dal surriscaldamento e dal freddo tutta la casa è super isolata pareti, pavimenti, soffitto, tutto questo per mantenere una temperatura costante al suo interno ciò riduce di molto gli interventi necessari per equilibrare il freddo e il caldo che c'è all'esterno durante le stagioni è lo stesso concetto del cosiddetto cappotto con cui stiamo rivestendo le nostre vecchie abitazioni un pannello di materiale ultra isolante riveste le nostre case fatte di groviera pieno di buchi da dove adesso non passa più l'aria il risultato è che passerà l'inverno a colori ferispenti invece che sparati al massimo le finestre sono un punto debole ecco che infissi altamente performanti con vetri a tre strati ed infissi a tenuta riducono lo scambio con l'esterno il tetto il tetto deve essere a tenuta d'aria in modo da non mettere in comunicazione l'ambiente interno verso l'esterno e viceversa i ponti termici che non sono delle dentiere riscaldate ma i punti in cui le parti esterne della casa si incontrano e rischiano di vanificare parte del lavoro se non trattati adeguatamente infine la ventilazione meccanica controllata detta VMC essendo la casa a tenuta se non vogliamo affogarci dentro serve un sistema di riciclo dell'aria che permette un ricambio dell'aria senza aprire le finestre uno scambiatore di colore di calore e infine prende aria pulita dall'esterno e la preriscalda o preraffredda prima di metterla nell'ambiente vivere in una casa a temperatura controllata umidità costante senza muffe, odori, polvere, spifferi, rumore aumenta in modo notevole la qualità della nostra vita quindi sei più felice, spendi poco e contribuisci a salvaguardare il nostro pianeta se ti è interessato a questo argomento e ti interessano altri argomenti relativi al settore immobiliare iscriviti al mio canale youtube buona vendita